Stavolta a scuotere l'Afghanistan non è il rumore di un'esplosione, ma il suono rock delle batterie e delle chitarre di Sound Central. Nel paese dove decenni di violenza hanno quasi cancellato la musica, vietata durante il regime dei Taliban, per la prima volta da 30 anni un festival di musica ha portato a Kabul un'atmosfera di festa con spettatori arrivati anche da fuori. Non vedevo un concerto da tempo perché a Kandahar si combatte e ci sono i Taliban, così sono venuto a Kabul per vedere questo concerto. A esibirsi a Kabul con le diverse sfumature del rock sono state band afghane, ma anche di altri paesi. Un'esperienza inedita non solo per i giovani, ma anche per tanti afghani forse più abituati al popo occidentale o alle colonne sonore dei film di Bollywood. Grazie a tutti.